Ciao ragazzi, oggi siamo qui per fare un nuovo challenge nei draft Oggi andremo a prendere nella formazione i giocatori più veloci Invece la panchina, i sostituti e le riserve le faremo noi a casa Io andremo a prendere 15.000 crediti per questo draft Con quel modulo scegliamo quello che vogliamo noi Io andremo a prendere un 641 oppure un bel 442 Un po' attenzione, capitani brutti Il più veloce ragazzi è un po' Gazzetta, Benjamal, Messi Ok raga, capitano Messi Direi che ci sta Messi preso, prossima carta Io direi di partire Ok, partiamo dall'attacco Un Bappé, Ragan Bappé è più veloce Vero? Si, Ragan Bappé è il più veloce Con 97 di velocità Chi ne va beh? Una bella icona Una bella icona? Uh No raga Più veloce è il lasagna No raga C'è la sfalenco Lasagna con 97? Ma che? Vabbè Non facciamoci domande Ok buono Il più veloce è Ma tui di? Si raga ma tui di? Ok raga Prima filetto di intesa Una bella icon Busquets Mendy Ok raga Un po' di intesa Lasciamo iniziando a fare Esterno Ok buono Uh Che è più veloce? Simon 98 velocità Ok Andiamo subito con la prossima carta Ok raga buona Un po' Schultz con 93 velocità Un po' 84 Schultz Non è troppo forte Però vabbè Ok Ok raga Buono 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 Insomma Veloce nettamente Diego Carlos Con ben 90 Di velocità Attenzione perché Comunque ci farà intesa dopo Qua Magari un Non me lo so Vediamo un po' Qua E Tomori Con 88 Di velocità Tomori E' forte Però Non è Assunta la Premier No no Schifo Schifo Uh Buono 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 Che schifo Eh Insomma Cash con 91 Di velocità Che c'è Vente Esa Qua raga Ha un icon Per forza C'è Qua ragazzi Invece andremo a vedere Il tuffo Il tuffo Vediamo un po' Le man Oddio raga Occio 89 Di tuffo Comunque ragazzi 90 Con le man Oddio Ora Direi che Andiamo A Completare La mia rosa Ok 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 Questi sono i giocatori Ora L'ho Dove Dove Aggiustare E vediamo un po' Cosa ne esce Ok ragazzi Ecco L'allenatore Andiamo a prendere Questo qui Della liga Un bel Eh raga Ho fatto un po' Di modifica Comunque Andiamo un po' Ok dai Prendiamo lui Diego Martinez Gli ho fatto un bel 100 82 Raga Non è male Ma non è per niente male Comunque raga Potrebbe andare molto peggio Questa è la squadra Ok raga Questa è la squadra E noi Ora Ovviamente Andiamo a giocare E noi ci vediamo A fine Partita Comunque Ecco la sua squadra Non è male Che dico Non è male Fortissima Cosa è la squadra Cosa è la squadra Cosa è la squadra Abbiamo perso Viene Perché me la gufo È sultato sempre Troppo presto Dai Cos'è perché È sultato troppo presto Eh Detto Eh Goal Buttare 15.000 crediti Cerca Buttare 15.000 crediti Ma chi è sta gente Verrà Sì Però facciamo Uno sfido Se trovo Alcuno di recente In un pacchetto 12 autoritari Non so che devo fare La prossima volta Che porto un video Nel draft Porterò Il draft Con i giocatori Più lenti Mi raccomando Quindi andatelo a vedere Ora andiamo a fare Questa sfida E poi raga Vi dico che Voi Credo Avete visto All'inizio La mia squadra Vabbè Comunque Ciao A parte questo Se volete qualche partita Con la mia squadra Magari Fatemelo sapere In un commento E con Questo grande giocatore Ladu Noi ci vediamo Nel prossimo video Questa comunque È la mia squadra E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao a tutti